Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ragazzi ma c'ho due perle Porca troia! Sgancia due perle qui da me Ma non li attacco No li ho preso il maestro Quando cazzo l'ho preso due perle? Ok ne abbiamo 5 raga, ce ne servono almeno 6 3, 14 Eh già Vabbè, ma tocca aspettare che troppi ne basta? Lì aspettiamo Io ho ancora tanto oro Vengo con te Jackie Dobbiamo girare qui e prendere due Enderman Già mandimi un numero Per 26 Infatti lo carico perchè non ce l'ho Guarda che mossa dell'antico Jaguaro Lo allungo così Giallo grazie P4, patata Nikles Bentornati in stalla, Teo grazie P3 Sta a partire il treno Matte grazie P9, Sabino grazie P5 mesetti Dovava succedere Dovava succedere? Niko grazie per i venti amor Mini grazie per i 5 Eh ma ce ciuccia pure questi Ormai ce ciuccia...Oddio per 26 ho calli da un gato Giamma Giamma Gianmarco Gianmarco Giamma Giamma Appena riesco sto a Wedding room Ah già madonna porco Eh sì Tornati in stalla Tornati in stalla Daaaah Per tesoro Spiega a me Del tuo odio sconfinato Il pelato a sinistra è BASTA Innamorarsi di un rapper Era la più grande Cazzata con armi Eeees Conosco personalmente Conosco personalmente Gerry e mi ha raccontato che l'oxyuder è super fissato con lui Sì Ho aggiunto un paio di fiamme oggi I mesi Vabbè ma è interista che ti aspettavi Cosa Grazie Per le 5 sub gift audio Prego Non è dramma non me ne frega niente Però dico proprio le cose semplici semplici Nella vita Sei uguale a Keita Baldi quando stava alla Lazio Ma adesso O prima quando Prego non iniziate Giammo teoricamente Ronaldo atterra a mezzanotte a fiumicino GGGGGGGGGGGGGG Buonanino Madonna porco dio Buonanino Bella Giammo sono contento che sei tornato Mi sono ripreso il covid ma molto più pesante di Omardone Con Rust con Zano Con Marza Con tutti quanti Il 20 abbiamo un Rivals di Warzone organizzato Ho deciso Basta No comunque capisco il Capisco il Capisco la Capisco tutti e due i punti Nel senso capisco sia il punto di Moonride Che probabilmente Vedendolo proprio come streamer E' molto più E' molto più sciallo Per le 5 sub gift audio E' molto più E' molto più sciallo E' molto più sciallo Io andiamo L' sforcemmolo E lo Semplicialmente Perlers E' anche Ben Qualcun L'innovio Io andiamo Ed Il triangolare estivo El campionato Ed Adesso è molto caldin La Quindi Sto da vincere mo Bisogna andare proprio li Ai molti brigatori Vado a ringraziare un attimo tu so Quattro negri Ti pare che c'ha un asso sotto raga Ti pare che c'ha un tre E un dieci Definizione di unskilled Aspetta mi metto dentro lo schermo Ok ho fatto cadere l'acqua su tutto il computer Tire Non era chiusa Come hai fatto cadere? Chilla Sono ancora vivo Porca troia Scusatemi l'interruzione un attimo Gianmarco Tu devi prendere otto tumori diversi Quaranta metastasi Ti auguro Ma che cazzo di allerta hai messo porco dio Ma tu sei veramente Un ritardato di merda Tu sei veramente Porco dio ti auguro ogni male Io ti auguro ogni cazzo di male Io spero che veramente domani ti investa Trenitalia faccia retromarcia Avanti indietro Avanti indietro Tutte le costole Polverizzate Ma come cazzo fai? Da computer ragazzi Basta andare sul canale Il Masseo Tre puntini No 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 Non me ne frega un cazzo Ma segnalatemi Bannatemi porco dio Porca madonna Bannatemi il canale Twitch Non voglio più vivere Delle 5 sabbi di stadio Finché non vedo già Marco Tocco cadavere Finché non vedo già Marco Tocco cadavere Non so Delle 5 sabbi di stadio Non ti auguro di perdere mai un singolo euro in più 14 14 14 C'ha no C'ha no Marco Tocco Vabbè sì però che il palettone mio tranquillo Però so mille bombole Porco dio Oddio Oddio Eh sì qua so il fenomeno Adesso lo sai che dalla fretta tu sbaglierei e cadrai di sotto Thanks Porco dio Non c'è su Chris della madonna No Ah Ah